Sto facendo la ledi pelicciocchi, il Santana reale, ecco il bombardino che è da quel lato, quant'è di gana di volta? Questa qui? 16 e 8. Comunque non devi drittarli, adesso l'ubola dritto che si fa così, tu li hai portati a zero nella condizione del zero con l'ala però lui ti fa così, quindi se tu non sei pronto, vanno dove voglio, perché dava storta? Perché è sfalzato adesso, lo zero, lo zero qui è sfalzato, vedi che è sfalzato, 5 o altro? E' sfalzato, vedete? E' sfalzato, vedete? Poi sai, ognuno l'avete sfruttato? Sì, qua qua. Sì, qua è il botto, vedete? Aici sono delle capacità. Grazie a tutti.